Però adesso voltiamo pagina perché c'è stata un'altra notizia che tutti stanno seguendo in queste ore, Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, con un tweet ha lasciato il compagno dopo i fuori onda di striscia alla notizia. Perché una questione personale diventa una questione politica? Tu ne hai scritto anche stamattina sul Fatto Quotidiano, hai parlato di conflitto di interessi, hai parlato di altre cose, perché? Perché c'è un aspetto privato che va rispettato, io rispetto molto il turbamento di Giorgia Meloni nel vedere sfasciarsi la sua famiglia da cui era nata una bambina, rispetto molto la prima parte del post che ha fatto ieri per mettere alla porta il suo compagno, la seconda parte evoca il solito complotto, mentre in realtà è un autocomplotto, però poi c'è una parte che non c'entra niente con il privato e che c'entra molto con l'eterno conflitto di interessi mai spento. Intanto lei ha sbagliato a trattare con disprezzo il nostro giornale e quei pochi che, anzi il nostro giornale che le ha fatto una domanda quando le abbiamo chiesto, ma non è il caso che Gian Bruno si occupi di altro anziché condurre un talk politico in cui tutte le volte deve parlare della sua fidanzata e se ne parla male è una crisi familiare, se ne parla bene è servilismo e lei disse la libertà di stampa. No, la libertà di stampa è proprio quella che evita i conflitti di interessi. Adesso quel conflitto è scoppiato, è scoppiato perché si è capito che Gian Bruno aveva fatto carriera anche grazie al fatto che era il compagno di una leader importante che poi è diventata premier e adesso cade in disgrazia anche perché non è più il compagno della Presidente del Consiglio. E poi c'è il tema della proprietà di Forza Italia che è uno dei tre soci del governo. Di chi è Forza Italia? È sempre della famiglia Berlusconi che continua a controllare la cassa e quindi il partito. Antonio Ricci oggi ha scritto non si pensi che qualcuno possa... Io conosco Ricci e so che Striscia Notizia è veramente una repubblica separata, a parte il fatto che non attacca la proprietà mai in nessuna azienda. Per il resto so che ha deciso lui di il quando e il come. Dopodiché adesso il problema non è la famiglia Meloni che non c'è più, o meglio è scoppiata, ma il problema è il rapporto fra il governo, la famiglia Berlusconi, il gruppo Mediaset, Forza Italia e tutto questo nasce dal fatto che la Meloni disse non sono ricattabile ma nemmeno lei ha neppure provato a recidere quel conflitto di interesse. Mi dai un telegramma su questa questione, poi torniamo a parlare d'altro, mi dici un telegramma su questa questione? Dio, patria e famiglia mi sembra che sia uno slogan che traballa un po'. Dopo questa pubblicazione da parte di Giorgia Meloni del post con quella famiglia, se posso dirlo, io non avrei messo la foto della bambina per giunta senza pixelarla, non credo che tra qualche anno gliene sarà grata di questa esposizione la bimba, ma quello che mi fa impressione è che adesso tutta la destra, sono contento che c'è Vittorio Feltri, ospite fra poco, sono curioso di sentire. Glielo chiederemo, glielo chiederemo ovviamente. Hai presente quando lo faceva Berlusconi, il tomber de fam, il teorico del linguaggio politicamente scorretto, tutti ad applaudirlo. Adesso che lo ha fatto il Gian Bruno, in maniera che a me sembra deplorevole, ma che è assolutamente abitudinaria in quegli ambienti, o ce ne fosse uno di quelli che gridavano contro la dittatura del pensiero unico, del politicamente scorretto, no alla censura, lasciateci esprimere come siamo abituati, o ce ne fosse uno, sono diventati femministi tutti quanti, mi fanno ridere.